Tutti preferiscono il Cilento, anche le nostre amiche tartarughe che sono venute a trovarci ad Agnone. È il commento del vice sindaco di Montecorice Pasquale Tarallo che ha condiviso un bellissimo video realizzato da Enzo Milo nel quale si vede nuotare nello splendido mare cristallino una tartaruga caretta caretta. Uno splendido esemplare di tartaruga caretta caretta è stato ripreso a largo di Agnone e Cilento nel comune di Montecorice. Le immagini girate da Enzo Milo mostrano la tartaruga in tutta la sua bellezza. È risaputo che le caretta caretta amano nidificare sulle bellissime spiagge del Cilento. Negli anni passati sono state tantissime le nidificazioni accertate di questo splendido animale, ma anche recentemente su una delle spiagge del comune di Ascea, il primo nido dell'estate 2020, località Scoiera. Nei pressi del Lido Il Brigantino, il personale del Centro Ricerche Tartarughe Marine della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, ha verificato la presenza delle uova. Ulteriori monitoraggi per la presenza di nidificazioni continueranno su tutto il tratto costiero cilentano.